ragazzi buonasera avete finito adesso con qualche altra lezione? sì facciamo un po' di pausa allora visto che avete la testa sicuramente piena grazie mille qualche minuto grazie 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 siete presenti così cominciamo? grazie 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 abbiamo abbiamo amico amico non c'è? non c'è amico Bernardi presente Bertolini presente Bugnone di Domenico di Domenico De Franco presente Enrico presente Alini presente Joe presente Giuli presente presente Giuliano Liguori Mariano Salvatore presente Mazzaro presente Mazzaro presente Pizzo presente Pizzo presente Senatore maria allora carol nese carol 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 presente presente Caciulli. Presente. Caciulli. Presente. Talora. Presente. Agostino. Presente. Profi, volevo comunicarle che ci sarò fino alle 18. Ok, va bene. Grazie per l'avviso. Fasciglione. Fasciglione poco, anzi l'ho visto o no? Presente. Ok, va bene. Quindi tutti presenti in veterinaria e medicina sono assenti. Amico, Brugnone, Di Domenico. Prof, chiedo scusa, sono appena entrato. Mi sei riscontrato sul computer. Ok, Di Domenico qua. Poi abbiamo Giuliano, Samuel e senatore. Eh, per se sono senatore, in questo momento sono entrato anche io. Ah, va benissimo. Ok, cominciamo allora. Facciamo così. Così. Allora. Andiamo un po' di applicazione. Qui metteremo un po' insieme il concetto di forza di attrito viscoso. Motto di una particella in un fluido, quindi un liquido nel nostro caso. e diagnosi medica. Vediamo un po' com'è, metto insieme tutti questi concetti. Quindi parleremo del trasporto in regime viscoso. Già la viscosità l'abbiamo analizzata nelle ultime lezioni fatte per i fluidi reali. Allora, come nelle primissime lezioni, forse la seconda, quando abbiamo parlato della dinamica, abbiamo visto che il moto, ad esempio della caduta libera di un oggetto in aria, è sottoposto, oltre alla forza di gravità, alla forza di attrito viscoso tra il corpo e l'aria. Abbiamo visto che il corpo non acquista velocità infinita, ma arriverà ad una certa velocità limite. Ora, tutto quello che è stato detto in quelle lezioni, lo analizzeremo adesso per particelle molto piccole. Quindi quando una particella di massa m si muove in un mezzo fluido viscoso, quindi c'è forza di attrito, quindi indice di viscosità, e si incontra delle forze appunto che ne rallentano il moto. Noi supporremo che il fluido sia omogeneo, quindi uguale in qualsiasi punto dello spazio appartenente al fluido stesso. Questa particella appunto risente di una forza opposta al suo moto, quindi che la rallenta, e vedremo, ma come già abbiamo detto, che la forza di attrito è proporzionale alla velocità. L'altra volta abbiamo visto che per grandi oggetti, quindi per grandi masse, la fda è proporzionale al quadrato della velocità, tipo il paracadutista. Qui invece, siccome parleremo di masse abbastanza piccole, la forza di attrito è direttamente proporzionale alla velocità. F, questo F piccolo, è semplicemente un coefficiente di attrito, quindi di proporzionalità. Vediamo un po' adesso quanto vale questo F piccolino, e vedremo che appunto dipende dalla forma della particella e della viscosità del fluido. Prendiamo una particella, questa qui è una particella, sottoposta ad una forza F. Man mano che la velocità aumenta di questa particella, aumenta anche la forza di attrito, perché abbiamo detto che la forza di attrito è direttamente proporzionale al vettore velocità. Qui c'è un segno meno perché la fda è diverso opposto alla velocità, il verso stessa direzione ma verso opposto, infatti la b è verso destra, la fda è verso sinistra. Quindi man mano la b, la velocità, aumenta, lo fa anche la forza di attrito, fino ad un punto in cui la forza applicata che fa muovere l'oggetto sia esattamente uguale alla forza di attrito. Quindi la forza di attrito aumenta fino ad uguagliare la F. E dalla dinamica sappiamo che se la sommatoria delle forze è uguale a zero, non c'è accelerazione, infatti la b sarà poi costante. Questa v costante si chiama velocità di spostamento o di sedimentazione, come vedremo tra un po'. Quindi si ugualiano le delle forze, a uguale a zero e la v sarà costante, quindi la v aumenta da zero fino ad un valore costante. Ora, semplicemente questa v, io prendo questa formuletta ma vado ad isolarmi la v e trovo che la velocità di spostamento è esattamente uguale alla forza applicata diviso questo coefficiente di attrito, perché vediamo un po' quanto vale adesso questo f piccolino. Perché l'f piccolino varia a seconda del sistema fisico che stiamo andando ad analizzare. Quando la particella è sferica, quindi piccole particelle sferiche, possiamo utilizzare la cosiddetta legge di Stokes, dove la forza di attrito, o meglio, dove la f piccolina, che era il coefficiente di attrito, la f piccola adesso sarà uguale a 6 pi greco eta per r, questo qui dovete saperlo perché ce lo ritroveremo adesso sempre, dove eta è il coefficiente di viscosità del fluido ed r è il raggio della particella sferica. Quindi se metto questo f piccolino, lo metto qui dentro la formula, qua, con dentro, mi troverò che la velocità di spostamento, quindi quella limite, è data dalla forza applicata all'esterno diviso il 6 pi greco eta r, che abbiamo detto essere il coefficiente di attrito. Oppure possiamo dire che la forza di attrito è uguale al 6 pi greco eta r, e per la velocità, ma è semplicemente la formuletta rivista. C'è questa di qua, non dico nulla di nuovo, opposto di f, mettiamo quello che è detto la legge di Stokes. Quindi, in definitiva, la forza di attrito è uguale a questa quantità, bisogna meno perché la forza è opposta al vettore a velocità, e identifichiamo anche il cosiddetto coefficiente di mobilità, o semplicemente mobilità, che è semplicemente l'inverso del coefficiente di attrito. Quindi 1 su f. resistenza f, mobilità mu, quindi l'inverso è la mobilità. Ok, analizziamo, o meglio focalizziamoci, su questa grandezza f di a. però, come dicevo poc'anzi, notiamo che adesso dipende dalle caratteristiche fisiche e geometriche del sistema che dobbiamo analizzare, dove c'è infatti r, raggio della particella, eta, coefficiente di viscosità. Questo f, non f di a, ma la f, quello che fa muovere la particella, quindi quello che fa acquistare a velocità la particella, vedremo che è esattamente uguale alla forza peso quando parleremo di sedimentazione. è uguale alla forza elettrica quando parleremo di elettroforesi ed uguale alla forza centrifuga quando parleremo di centrifugazione. Quindi questo f cambierà. E ovviamente cambiando f mi varia anche la velocità di spostamento. Se f è più grande, ovviamente la velocità di spostamento sarà più grande. Così come sarà anche poi più grande la forza di attrito perché è direttamente proporzionale alla velocità. Da tenere in considerazione quando parleremo di sedimentazione e di forza centrifuga, dobbiamo anche tenere presente della spinta di Archimede idrostatica, quella che già abbiamo fatto in precedenza, e della spinta di Archimede centrifuga. Sono simili queste due. Diciamo che il concetto fisico è lo stesso, cambia soltanto una grandezza nella formula da applicare. Però quando parliamo di sedimentazione, essendo che abbiamo un oggetto immerso in un fluido, e questo oggetto sposta la massa del fluido, c'è anche appunto la forza di Archimede dato dal peso del liquido spostato. Ok. Analizziamo. Sedimentazione. Sedimentazione. Abbiamo allora una, la nostra particella è messa in un fluido, la nostra particella sarà soggetto alla forza peso, quindi F che sarà la forza peso. qui l'asse delle Y l'ho messo verso il basso, ma non cambia nulla, quindi tutte le forze che sono rivolte verso il basso sono positive. Quindi la forza peso spinge la particella verso il fondo, ma, essendo che lui ha un volume, sposta il liquido, quindi ci sarà la forza di Archimede, SA è la spinta di Archimede, e anche ci sarà la forza di Attrito Viscoso, perché il fluido appunto, le particelle di fluido che urtano nella particella creano attrito. Quindi sostanzialmente le tre forze sono queste qua, m per g, m' per g dove m' è la massa del fluido spostato, ed FbA, che è uguale al coefficiente di Attrito per B. Vedremo che già conosciamo quanto vuole questo f piccolino, tramite la formula di Stokes. Quanto è che abbiamo l'equilibrio? Quando le tre forze ovviamente sono uguale a zero. Primo principio della dinamica, se in un corpo la somma delle forze è uguale a zero, non c'è accelerazione. Quindi la somma delle tre forze deve essere uguale a zero. Poi qui semplicemente si va a prendere anche il segno e alla fine, alla fine, o meglio, nella slide qui si prende FbA, lo si porta a destra, poi si prende il valore di FbA che è uguale ad F piccolo per B, ma B è uguale a Bs. Tutto questo per trovarci la velocità di sedimentazione dalla formula inversa che adesso appena evidenziamo. Quindi la velocità di sedimentazione è semplicemente uguale a questa di qui. Ma possiamo semplificarla. Andiamo un po' al dunque, perché tutti i passaggi a voi non interessano, però sono importanti per allenare anche la mende, però vediamo un po' al dunque. Quindi sopra vi è scritto questo di qua. Ora il volume è uguale per tutte e due, perché il volume della particella è esattamente uguale al volume del liquido spostato. Prendiamo tutto, mettiamo fattore comune e otteniamo questa formuletta qui. al posto di f piccolo vado a mettere quello che mi detta Stokes, quindi per una particella sferica, vado a sostituire e alla fine ottengo questa formuletta qui. Più che altro qui sono tutti passaggi matematici. Di base bisogna sapere e conoscere che la sommatoria delle forze deve essere uguale a zero. Essendo che f uguale a zero, la A accelerazione è uguale a zero, quindi la velocità si mantiene costante. In quanto prima questa particella quando è immersa inizia ad accelerare, però va decelerando fino ad ottenere appunto una A uguale a zero, quindi più costante. Quindi si mette nel fluido, lui inizialmente c'è una certa accelerazione, però poi la va perdendo. Fino a che la B è costante. Allora, sì? Prof, ma la sommatoria delle forze deve essere uguale a zero per avere il sistema in equilibrio? Esattamente, sì. Ok. E la formula da attenzionare è l'ultima nel ricordo? Esatto, esatto. Qui l'importante è che voi capiate da dove proviene. Quindi l'equilibrio dinamico è questo, la somma deve essere uguale a zero delle forze. Poi qui è una sostituzione. Chi è F di A? È questa quantità. Chi è S di A? Questa quantità. S di A spinge di Archimede. Chi è la forza che spinge l'oggetto verso il basso? M per G. Poi è tutta una sostituzione. L'importante è che voi sappiate da dove proviene. Ora, come diceva la vostra collega, attenzioniamoci su questa formuletta di qua. quindi capiamo che la velocità di sedimentazione, quindi la velocità limite della particella che va sedimentando verso il fondo del contenitore, è data prettamente da quantità fisiche e geometriche. R è il raggio della particella, D è la densità della particella, D' il primo, quella del fluido ed Eta è il coefficiente di viscosità del fluido. Quindi sono tutte grandezze che possiamo misurare. Sì, prego Luca. Eh, proprio io non ho ben capito una cosa. Sì. La forza di Archimede non è uguale alla spinta? È esattamente uguale, sì. O la chiamiamo spinta o la chiamiamo forza sì. È uguale, è esattamente la stessa cosa. E perché nelle sommatorie delle forze devo mettere sia la forza di Archimede che la spinta? No, questa F di A è la forza di attrito. Ah, ok, di attrito, ok, grazie. infatti guarda qui, F di A è uguale a meno F piccolo che è il coefficiente di attrito che dipende dal sistema fisico per la velocità, ok, F a piccolo è la forza di attrito. Solitamente noi la forza di Archimede o spinta di Archimede la identifichiamo con la lettera A maiuscola, ok, perché vi ho detto nelle prissime lezioni che quando vi è una grandezza che è l'iniziale del nome del fisico che l'ha scoperto o creata sono sempre lettere maiuscole tipo come la forza di Coulomb Archimede Kelvin Lord Kelvin le varie costanti quindi quando derivano da nomi dei fisici sono sempre lettere maiuscola quindi spinta di Archimede. Ora qui dicevo che la spinta di Archimede o la velocità di sedimentazione dipende esclusivamente da proprietà geometriche e fisiche del sistema. A cosa ci servono? Ai vostri scopi? Questo ci serve per il cosiddetto calcolo della velocità di eritrosedimentazione acronimo BES velocità eritrosedimentazione che significa significa che lo vediamo qua quando si fanno le analisi del sangue si preleva ovviamente il sangue si mettono in delle cialette e il sangue ovviamente è composto da una parte corpuscolare una parte liquida quindi plasma poi c'è le proteine i globuli bianchi gli eritrociti con i globuli rossi e altre sostanze queste sostanze che sono quantità corpuscolari a poco a poco vanno sedimentando ecco che adesso vediamo come sedimentano e con quali numeri sedimentano il BES come ho detto alla slide va bene per particelle non troppo piccole perché quando siamo in condizione di analizzare la VES per piccole particelle entra in campo la centrifuga però concentriamoci su su un sistema puramente semplice allora quindi questi globuli rossi dicono molto sul sistema di salute non sul sistema sulla condizione di salute di un soggetto così molto in generale gli eritrociti o globuli rossi sono cellule del sangue prive di nucleo la cui funzione è trasportare ossigeno ed anidide carbonica attraverso la monoglobina in essa contenuta e che appunto determina la colorazione rossa del sangue ma come sono fatti questi globuli rossi sono delle ciambelle appunto che hanno la funzione di trasportare ossigeno quindi hanno una forma di una ciambella però senza il buco e mediamente anche quello vediamo dalla foto e mediamente hanno forme e dimensioni costanti normalmente quindi in un soggetto sano il globulo ha un diametro medio di circa 7-8 micron e in presenza di patologie appunto la loro forma può variare e se varia la forma varierà anche la massa se varierà la massa è la loro forma quindi il volume cambierà la densità e dalla bellissima formuletta che abbiamo visto poc'anzi al variare di r quindi dalla forma del globulo e dalla densità dello stesso varierà la velocità di sedimentazione noi approssimiamo qui che il globulo sia di forma sferica quando utilizziamo questa formuletta perché Stox Stox vale per particelle sferiche però approssimiamo ok qui c'è un c'è in dettaglio una una sezione appunto del globulo appunto una variazione della sua dimensione ci sta ad indicare che c'è qualcosa che non va ora ci sono molte patologie collegate ad una non conformità del dei globuli rossi quindi appunto attraverso i quali sono il medico o chi fa le analisi può capire se c'è un problema o meno ora vediamo un po' no niente quindi la variazione di forma e dimensione appunto si chiama anacitosi la variazione di forma di dimensione quindi l'anacitosi è frequentemente associata ad alcune forme di anemia per anemia è quella condizione patologica appunto in cui il numero dei globuli rossi non è sufficiente a trasportare tutto l'ossigeno necessario quindi c'è una riduzione anche di globuli rossi e queste anemie oppure le problematiche che possono indurre ad anacitosi sono le più svariate carenze vitaminiche deficit di ferro malattie infiamatorie croniche celachia infezioni neoplasie e la gravidanza le neoplasie in particolar modo è una crescita incontrollata delle cellule crescita controllata quindi varia ovviamente la forma ma anche quella densità dei globuli stessi ma come si fa questa questa analisi il test è abbastanza semplice quanto geniale se così possiamo dire il test del BES non fa altro che determinare la velocità con cui gli eritrociti corbuli rossi sedimentano quando il sangue appunto è messo in una provetta verticale quindi se mette il sangue nella provetta verticale a poco a poco vi è la separazione tra il plasma quindi parte liquida e la parte corpuscolare qua man mano che la parte corpuscolare va sedimentando si fanno delle letture di cosa vediamo qui se c'è si va dopo 10-20 minuti 30 minuti non c'è un dato ben definito ma mediamente vanno da 10-20 minuti oppure un'ora quello che si va a leggere è semplicemente la profondità del menisco che separa il plasma dal dagli eritrociti quindi si va a fare una lettura appunto di profondità e se abbiamo una profondità o meglio uno spazio e un tempo lo dividiamo e troviamo la cosiddetta velocità di eritrosedimentazione qui dovrebbe esserci anche anche spiegato queste quattro parole che ho detto sì ok poi ovviamente già anche dalla dalla osservando appunto la quantità o meglio la percentuale di eritrociti rispetto a plasma già si può avere una prima diagnosi perché abbiamo detto che il sangue normale il 40-50% è composto da eritrociti e l'altra parte è il plasma quindi il rapporto è l'ematocito quindi questo qui ad esempio è un sangue normale al di là della velocità di sedimentazione se qui invece abbiamo in una provetta abbiamo questo rapporto tra plasma ed globuli rossi o anche in questa parte di qui dove il rapporto non è più quello ottimale e già questo qui è un secondo campanello di allarme che c'è qualcosa appunto che non va e ricordiamo che l'anemia appunto è quella patologia dove l'organismo non riesce a produrre abbastanza globuli rossi allora in condizioni normali la velocità limite di ritrosedimentazione è abbastanza piccola perché i globuli sono particelle veramente piccole ed essendo che la base dipende dalla densità ma anche dal raggio quindi più piccolo r più piccolo è la densità più piccolo sarà la velocità di sedimentazione invece quando c'è qualcosa che non va avviene ad esempio che i globuli rossi si addensano su se stesse si concentrano e essendo che si concentrano non avranno più un r come il singolo globulo ma ovviamente le dimensioni aumentano quindi essendo che le dimensioni aumentano sarà anche aumentata la velocità di sedimentazione e quindi una lettura fuori da questi valori la lettura della velocità fuori da questi valori indicano appunto che vi è un qualcosa che non va e qui semplicemente viene riassunto il procedimento a dimenticare va a dire che nella provetta viene inserito anche un anticoagulante per evitare appunto problematiche nella misurazione della profondità del menisco domande qui ragazzi io proprio ne ho una prego ma quindi questa velocità è opposta a quella critica è quella critica cioè nel senso velocità critica qui la definiamo come velocità di sedimentazione ok è esattamente la stessa velocità attenzione che aspetta 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 posso capire lei si riferisce alla critica quando abbiamo parlato del del moto turbolento sì perché lì se diminuiva il raggio aumentava credo la velocità critica ecco al contrario qui qui siamo in una condizione che non arriveremo mai ad una velocità critica perché le velocità sono talmente basse qui che non si otterrà mai una velocità critica infatti infatti qui noi non parliamo di numero di Reynolds non so se ricorda che era da 1000 e 1200 ad esempio quel numero qui noi non ne parliamo perché le velocità sono veramente basse e anche se si creano queste pile di globuli le velocità si aumentano ma sono sempre basse quindi qui non parleremo mai di regime turbolento assolutamente no perché le v sono estremamente basse ora io non so se erroneamente oltre a temballo la v critica me ne scuso se ho fatto questo no no era per per capire sono 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 due cose separato ok quello è qui non entriamo nelle nelle turbulenze assolutamente anzi infatti aspettiamo un'ora affinché tutto sedimenti quindi i tempi sono molto lunghi perché le v sono veramente molto piccole parliamo di 4 mm all'ora 4 10 mm all'ora cioè niente cioè in un'ora il menisco si è abbassato di 4 mm massimo 10 sono veramente molto basso ok non parliamo qui di velocità critiche prof si ma qual è il valore normale di velocità di ritrosedimentazione quello che abbiamo visto da 4 per l'uomo va dai 4 ai 10 per la donna dai 10 ai 15 c'è scritto qua ok ok grazie quando abbiamo valori che sono diversi da questi ovviamente c'è qualcosa che non va un'altra cosa importante è che il tutto dipende anche dalla temperatura nella formuletta non lo spunta P ma vedremo vedremo dopo che è anche importante la temperatura infatti il campionamento o meglio la misurazione viene fatta con temperatura ambiente quindi mediamente 18 20 gradi ok quindi abbiamo visto abbiamo anche ripreso l'ematocrito e va bene qui non c'è più niente da dire elettroforesi ora quello visto poc'anzi serve per avere informazioni sullo stato dei globuli rossi che abbiamo visto ci danno tantissime informazioni a livello di patologie ma veramente tante ha tantissime informazioni però sappiamo che la parte corpuscolare del sangue è formata anche da proteine proteine che si suddividono in due categorie albumina e globumina ora l'albumina in particolar modo è una proteina che per che tra i due quindi tra l'albumina e la globulina è parla al 60% ed è prodotto dal fegato principalmente dal fegato la globulina invece è il 40% rappresenta il 40% delle proteine del sangue e oltre ad essere prodotta dal fegato è anche prodotta dal sistema immunitario quindi capite bene che uno studio approfondito un'analisi approfondita delle quantità e della qualità di queste proteine sono molto indispensabili per identificare lo stato di salute di un paziente prof ma non ho capito se si trova nella parte liquida o corpuscolare 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 queste qui sono tutte parti corpuscolari in quanto la parte liquida è sostanzialmente il plasma quindi formato da acqua lipidi amminoacidi eccetera eccetera allora però ho detto bene ho detto bene in quanto in quanto nella parte liquida si trovano le proteine ho fatto un errore io sì nella parte liquida sono sempre corpuscoli ok ma nella parte liquida si trovano le proteine chiedo venia però sono corpuscoli di dimensioni veramente piccole rispetto ai globuli ecco perché andiamo ad utilizzare questa altra metodologia di analisi che è appunto l'elettroforesi l'elettroforesi consiste nella migrazione di particelle in sospensione dotate di carica elettrica Q quindi sono corpuscoli veramente piccoli sotto l'azione appunto di un campo elettrico applicato esternamente vedremo dopo tra qualche lezione che un corpo carico elettricamente immerso in un campo elettrico subisce una forza quindi una spinta la cosiddetta forza di Coulomb e qui facciamo sostanzialmente lo stesso essendo che le proteine sono o meglio che le particelle interessate quindi le proteine sono aminoacidi appunto proteine i quali contengono gruppi acidi e gruppi basici che si dissociano parzialmente quando le molecole si trovano in soluzione significa che questi aminoacidi o proteine contengono carica elettrica quindi sono ioni positivi o negativi quindi caricati elettricamente in modo positivo o negativo e quando mettiamo questi ioni in un campo elettrico subire una forza la forza infatti adesso non è più la forza peso come per la sedimentazione ma la forza adesso è data dalla forza di Coulomb la forza elettrica che è uguale alla carica dell'ione che si indica con la lettera Q per E dove è il valore del campo elettrico ma vediamo un po' come funziona qui nel dettaglio innanzitutto la carica Q piccola è un multiplo della carica elementare che è l'elettrone la carica dell'elettrone ad ogni modo quindi è un contenitore con all'interno una soluzione che appunto vogliamo analizzare di una batteria e un anodo e un catodo quindi sono due placchette metalliche che collegate alla batteria si vanno a caricare in maniera positiva e negativa che succede sostanzialmente sostanzialmente succede che qui si viene a creare una regione di campo elettrico che va dalla placca positiva quindi dall'anodo al catodo abbiamo detto che quando una particella è in carica è immersa in un cambio elettrico risentrà di una forza la forza quella che è scritta qui sopra carica dalla particella per il cambio elettrico il cambio elettrico si crea in maniera molto semplice quindi via la batteria via una tensione quella che viene chiamata una differenza di potenziale una tensione c'è una certa distanza tra le due placchette metalliche e il rapporto tra la tensione tipo 1,5 volt quella delle batterie classiche diviso la distanza ci dà il cambio elettrico ora la particella risentirà di questa forza F verso destra perché essendo la carica positiva sarà respinta dalla placca caricata positivamente in ogni modo quello che a voi interessa è questo che la particella carica o meglio la proteina o aminoacido carica quindi l'ione carico immerso in un cambio elettrico risente una forza pari a cupere la particella si muoverà in questo caso verso destra ma risenterà di una forza di attrito verso sinistra fino al punto in cui la velocità diventa costante ora ma poco fa cosa abbiamo detto per la velocità costante che era uguale alla forza che spinge la particella diviso questo coefficiente di attrito adesso la nostra forza è uguale ad Q per E il coefficiente di attrito è sempre quello dato da Sox quindi tutto rimane invariato si un attimino vi faccio vedere la formula quindi tutto rimane invariato però al posto della forza mettiamo Q per E carica dell'ione per il cambio elettrico ed F è data dalla forma di Sox si prego Ludovica Enrico Prof volevo chiederle se in un campo elettrico ideale come quello rappresentato in questa slide la carica diciamo posta nel campo elettrico è sempre positiva Q no 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 dipende dal caso dipende esatto dipende dal caso e in questo nell'esempio è positivo però però il le proteine così come gli aminoacidi sono sono degli amfoliti che significa che una volta messa in una soluzione con un certo pH si dissociano e possono acquistare carica sia positiva che negativa quindi possono diventare sia ioni positivi che negativi tutto in funzione del pH della soluzione in cui sono immerse ok perfetto grazie se qui ad esempio la carica era negativa quindi questo Q era meno Q quindi carica negativa la forza era esattamente opposta andava così la forza la forza che spinge e la forza del tetto ovviamente verso opposto quindi tutto dipende dal pH della soluzione va bene grazie prego ora anche per il caso visto poc'anzi identifichiamo questo coefficiente mu con e che si chiama mobilità elettroforetica è semplicemente la carica diviso diviso 7 greco eta r va bene sembra che a particella di forma sferica quindi in poche parole la velocità di sedimentazione si potrebbe scrivere anche con questa formuletta che è semplicemente quella prima questa di qui però il Q diviso 6 più greco eta r l'abbiamo chiamato mu con e è molto più diretta questa qua dove il cambio elettrico è dato da differenza di potenziale applicata alle placchette metalliche anodo e catodo diviso la distanza e qui abbiamo anche diverse mobilità di varie proteine la mobilità come vediamo dipende principalmente dalle proprietà fisico e geometriche della particella che si sta muovendo la carica la raggio e l'acquiviciente di viscosità del fluido quindi per ogni per ogni proteina abbiamo un certo coefficiente di mobilità diverso ed essendo che abbiamo un certo coefficiente di mobilità diverso applicando lo stesso campo elettrico è abbiamo per ogni sostanza una velocità differente questo è quello che ci interessa e che infatti qui si identifica il pH con questo pH e questa temperatura i coefficienti di mobilità sono questi ecco ho detto che in funzione del pH la proteina acquista una certa carica che sia positiva o negativa quindi si dissocia e diventa un ione più che acquista allora qui vi è un esempio lo lascio come 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 lettura semplicemente ci dà il coefficiente di mobilità di una sostanza ci dà il campo elettrico e attraverso queste due grandezze ci ritroviamo la velocità di sedimentazione però nessuno mi ha detto ma perché qui non c'è la forza peso qui non viene espressa la forza peso perché è una forza che è ortogonale allo spostamento a noi ci interessa questo movimento da sinistra a destra quello che fa dall'alto in basso non ci interessa vediamo perché perché alla fine poi troveremo un qualcosa del genere allora analizziamo quindi questa tecnica abbiamo utilizzato moltissima medicina anche biologia come metodo di analisi delle varie componenti di una miscela di aminoacido proteine perché come abbiamo detto prima la mobilità delle particelle dipende dalle loro dimensioni e anche dalla carica particelle di dimensioni diverse hanno mobilità differente ed essendo che hanno mobilità diversa hanno quindi anche velocità diversa quindi una va più veloce e un'altra magari va più lentamente quindi uno percorre a parità di tempo uno spazio maggiore e l'altro uno spazio minore a seconda se la B è maggiore o minore d'agostino prof scusate se vi interrompo io devo lasciare grazie 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 alla prossima quindi questa elettroporesi oltre a sfruttare ovviamente la dimensione delle proteine o aminoacidi sfrutta la massa è con oggetto più massivo più tra virgolette è lento a parità di forza applicata dipende appunto dalla carica elettrica e attraverso questo metodo andiamo a fare una analisi quantitativa e qualitativa in particolare questo esame consente la separazione di proteine in 5 frazioni che sono quelle che costituiscono appunto il part del plasma perché poco anzi ha fatto l'errore dicendo che è la parte corpuscolare invece è la parte liquida albumina alfa 1 globuline alfa 2 globuline beta globuline e gamma globuline sono 5 rassioni di proteine che possiede il plasma un soggetto normale ovviamente ha un rapporto tra queste proteine in un certo in un certo modo una variazione di questa distribuzione di concentrazione delle varie proteine sa significare che c'è qualcosa che non va quindi c'è una patologia aggiungiamo che questa tecnica può essere seguita su campioni quale il siero sanguigno ovviamente urine o altri liquidi biologici allora ricordate questo di qui ogni striscietta quindi qui si prende sostanzialmente si prende appunto tecnicamente non vorrei entrare troppo nel dettaglio eventualmente guardate un po' anche qualche video su youtube questi qui sono il risultato delle analisi effettuate delle strisce più o meno accese ogni striscia rappresenta una una proteina una frazione della proteina infatti infatti quello che otteniamo è il cosiddetto tracciato elettroforetico che è costituito da vari picchi e curve a cui corrispondono le varie frazioni delle proteine suddivise per tipologia e quantità appunto presente nel liquido che stiamo andando ad esaminare normalmente il primo picco che è quello più stretto e accentuato è l'albumina poi picchi diciamo secondari quindi meno accentuati sono alfa 1 alfa 2 beta e gamma e così via quello che abbiamo detto poc'anzi ora il picco mi rappresenta la quantità di quella proteina e come voi vedete questa striscia parte da una parte molto chiara qui è un po' più scuro poi qui normalmente è chiaro qui scuro qui chiaro qui scuro e così via perché inizialmente tutte queste frazioni di proteine si trovano all'inizio del vetrino poi viene applicato il campo elettrico campo elettrico quindi una forza loro iniziano a muoversi con accelerazioni diverse perché a uguale ad f fratto m ma abbiamo visto che la velocità poi di limite dipende poi dalla dimensione dalla carica dipende da tantissimi fattori quindi alla fine loro migrano verso sinistra con velocità diverse le più lente quindi quelle che hanno più massa e hanno meno carica si fermano mediamente prima rispetto a quelle più leggere con più carica quindi soggetto a più forza quindi c'è una separazione in funzione delle caratteristiche fisiche che abbiamo visto poc'anzi anche geometriche dubbi qui ragazzi di quello che ho detto quindi la forza è diversa perché ogni proteina magari ha la sua carica quindi già questo qui mi dà una forza più grande una forza più piccola ed è anche diversa perché magari una proteina è più massiva rispetto all'altra in quanto F ricordiamoci sembra che F è uguale a massa per accelerazione quindi accelerazione uguale a forza diviso diviso la massa più massiva è più piccola sarà l'accelerazione la partita di forza noi abbiamo proprio una separazione tra proteine ovviamente questa tecnica ci fa diagnosticare o monitorare le malattie che sono connesse ad un'alterazione delle concentrazioni delle proteine nel plasma o nelle urine o in altri campioni biologici ho preso qui qualche esempio di di anomalia o meglio di patologia quando vi è un'alterazione della concentrazione che possono essere malattie a carico del fegato o dei reni infezioni o infiammazioni mieloma multiplo sclerosi multipla e così via purtroppo ce n'è un bel po' quindi questa tecnica ci dà indicazioni su approvabile causa di un soggetto che non è sano quando quando ritorniamo un po' alle particelle un po' non un po' alle particelle massive ad esempio il globulo rosso è una particella molto più massiva rispetto alle proteine quindi diciamo che con la centrifugazione siamo nel caso della VES dalla VES però essendo che la VES dipendeva da G G è la costante di gravitazione universale o meglio scusatemi è l'accelerazione gravitazionale quindi essendo che la V dipende da G più grande questo G più grande sarà la velocità significa che spesso attendere un'ora affinché il 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 globulo rossi si 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 dividano dal plasma attendere troppo tempo non non è tanto efficiente insomma non abbiamo tempo ecco quello che possiamo fare è agire su G quindi più grande G più grande sarà la velocità di sedimentazione e prima e molto prima il menisco si abbasserà come com'è che possiamo agire su G ecco che viene in aiuto la centrifuga ecco grazie alla centrifuga quello che noi facciamo è aumentare di anche di un vattore 10 o 15 il valore di G quindi aumentare anche il valore della velocità di sedimentazione ora si possono utilizzare le centrifughe e le ultracentrifughe il principio base è esattamente uguale alla VES proprio nulla cambia cambia soltanto che al posto di G dobbiamo mettere qualche altra cosa allora innanzitutto dobbiamo identificare la forza che spinge la nostra particella a sedimentare verso il fondo della provetta innanzitutto la provetta non è più orizzontale non è più messa così la provetta ma è messa come vediamo dal grafico in maniera scusate non è messa in maniera verticale ma orizzontale questo di qui è il rotore della centrifuga rotore braccio e qui si mette la provetta sì Gioe prof quindi per il primo processo diciamo non avevamo bisogno di una macchina mentre invece per questo sì per accelerare enormemente i tempi ok grazie perché a seconda di cosa noi dobbiamo dividere attendere i tempi i tempi normali senza intervento dall'esterno è troppo dispendioso cioè ci vuole troppo tempo e come dicevo l'unico modo che possiamo agire è su G cambiamo questo G in buca parole ma G da cosa da cosa veniva G veniva dalla forza dalla forza peso così come la forza di Archimede spunta G quindi dobbiamo fare in modo che al posto di G mettiamo una quantità che sia più grande di G ora nel caso della sedimentazione a spingere il corpuscolo verso il basso è la forza peso qui invece essendo che la centrifuga ruota sul piano orizzontale è vero che c'è G che è rivolta così dalla forza peso ma di questa non ce ne facciamo nulla perché essendo che lui ruota c'è un certo raggio della traiettora circolare di questo rotore abbiamo studiato nella seconda lezione il moto circolare uniforme il moto circolare uniforme è caratterizzato da un'accelerazione centripeta o centrifuga a seconda dove osserviamo ecco che qui al posto di G entra in gioco l'accelerazione centripeta o meglio centrifuga perché si sta muovendo verso l'esterno un po' come quella che accade dentro la lavatrice stiamo facendo questo stiamo separando l'acqua dal panno in queste parole ora della forza peso non me ne faccio più nulla anche perché il le particelle sedimentano verso il piano orizzontale non verticale quindi la forza peso la posso mettere anche da parte quello che cambia è e qui ho una massa m ho una massa m che è quella della particella ho un'accelerazione centrifuga a c che è esattamente uguale all'opposto a quella centripeta e sappiamo dalla seconda legge della dinamica che la forza è uguale a massa per accelerazione quindi questa particella sarà spinta verso la direzione tangenziale alla circonferenza che percorre da uno quindi verso l'esterno ecco da una forza f data da massa della particella per accelerazione centrifuga ripeto la forza è uguale a massa per accelerazione qui è quella centrifuga e quindi ci possiamo trovare benessimamente la forza non è più m per g ma m per a c infatti la forza centrifuga a cui sottoposto la particella è f uguale m che è la massa della particella omega quadro r0 chi si ricorda che cos'è nel moto circolare uniforme omega quadro velocità angolare esattamente è la velocità angolare ed r è semplicemente il raggio tra il rotore o meglio la distanza quindi il raggio della traiettoria tra il rotore e la particella quindi capiamo bene che aumentando la velocità angolare in qualche modo il numero di giri al secondo così come la distanza aumenta la forza e ricordiamo le slide precedenti se la forza aumenta la forza e spinge aumenta anche la forza di attrito ma aumenta anche la velocità di sedimentazione e quindi acceleriamo i tempi perché questa particella è spinta con una forza molto più grande rispetto a quella gravitazionale quindi si muove prima più velocemente ecco qua però attenzione che se vi ricordate prima dove vi era ok oltre alla forza che ora abbiamo visto essere m omega quadro r qui c'è pure la spinta di Archimede a che cosa uguale la spinta di Archimede ragazzi forza si aprono le scommesse lì c'è scritto meno m per g m primo che è la massa del liquido spostato per g che è l'accelerazione gravitazionale ora al posto di g nella centrifuga cosa mettiamo g è l'accelerazione l'accelerazione centri bravissima bravissima quindi al posto di questo g dobbiamo mettere omega quadro r perché tutto il sistema è esattamente uguale ci cambia g quindi l'accelerazione quindi 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 questa particella questo qui è visto dall'alto il rotore è visto dall'alto quindi questa particella sarà soggetto a forza centrifuga che la spinge verso l'esterno ma anche alla forza di Archimede che la spinge verso l'interno quindi prendiamo queste forze e li mettiamo nella formula vista per la sedimentazione e vediamo quello che otteniamo questa qui è la provetta quindi la particella è spinta verso l'esterno dalla forza nuova che adesso abbiamo identificato m omega quadro r la spinge d'Archimede è data dalla massa del fluido per la nuova accelerazione quindi accelerazione centrifuga la forza di attrito la dobbiamo trovare abbiamo equilibrio quindi quando a è uguale a 0 quindi quando tutte le forze sono un posto uguale a 0 facciamo esattamente gli stessi passaggi fatti poc'anzi andiamo a mettere chi è f chi è s di a e chi è f piccolo esattamente come ho fatto prima cambia soltanto questa quantità e ci ritroviamo a parte tutti tutti i passaggi questa formuletta di qua v velocità di sedimentazione è uguale 4 pi greco r al cubo che è semplicemente il volume della particella e anche del fluido spostato ora qui ci spunta omega quadro r0 qui come ho fatto anche prima ci spunta la densità della particella meno la densità del fluido e qui il 6 pi greco eta r questo qui è esattamente come prima non cambia questa r con 0 è attenzione non è la il raggio della particella perché il raggio della particella è questo di qui dato da Stokes questo di qui abbiamo visto che è semplicemente la distanza che c'è tra il centro del rotore e la particella questo di qua r0 quindi se io scusate sì io prendo perché nella spinta di Archimede abbiamo un meno davanti in questo caso subito te lo spiego un attimino che prendo questa formuletta di qua allora ok qua sì esatto ok qui dobbiamo mettere un sistema di S cartesiani perché se parliamo di vettori la x la y da qualche parte io la devo mettere e qui mettiamo la x così da sinistra verso destra è positivo quindi la f essendo che concorda il mio S x è positivo S di A quindi da Archimede è discorda la mia x quindi è negativo così come la forse di attrito siccome dice mente questo io posso metterla anche al contrario non cambia nulla alla fine otterrò sempre lo stesso risultato anche se io questo qui lo metto così ora devo cambiare tutti i segni qua ma alla fine quando svolgo le calcole mi porterà sempre allo stesso risultato ora facciamo un confronto tra questa di qua e come si incolla e incolla perfetto allora questa di sopra è la velocità di sedimentazione della centrifuga questa di sotto è quella invece gravitazionale vediamo che cambia soltanto che in quella centrifuga abbiamo questo valore di accelerazione che è quella centrifuga accelerazione centrifuga in quella gravitazionale ovviamente c'è g ecco variando omega che è la logica angolare ma così anche r0 che è la distanza tra l'asse di rotazione e la provetta aumentiamo o diminuiamo in maniera molto molto sostanziosa insomma la velocità di sedimentazione ovviamente quello che si fa si utilizza la centrifuga ovviamente per aumentare maggiormente la b con s in modo che sia in tempi molto brevi la separazione delle varie particelle e quindi poi si prende la provetta si mette per l'orizzontale e si fa lo studio centrifuga ed ultra centrifuga è quello che cambia è la velocità vabbè qui è semplicemente un ridire quello che già ho detto poco fa ok domande qui ragazzi quindi abbiamo visto che tre tecniche appunto di analisi sia biologico o medica ad esempio del sangue la VES che ci analizza la quantità non la quantità ma sì la quantità e anche la densità la forma dei globuli rossi così anche come la centrifugazione ma nella centrifugazione possiamo separare anche altre particelle non siamo vincolati ai globuli rossi attenzione ok qualsiasi tipo di cellula possiamo utilizzare per applicare questo metodo mentre l'elettroforesi era un metodo di studio ed analisi della parte proteica che può essere le sangue possono essere le urine o altri liquidi biologici ma tutte e tre sono accomunate da velocità di sedimentazione oppure quella che qui all'inizio forse è più corretto chiamarla come velocità vediamo un po' com'era di spostamento ecco perché per l'elettroforesi non sedimenta nulla quindi diciamo che la velocità di spostamento è la grandezza fisica comune a tutte e tre a tutte e tre i processi di analisi anche abbiamo visto che la fisica di base che ci sta dietro è esattamente la stessa si parla di forze applicate che fa muovere la particella di forza di attrito che contrasta il moto della particella è di coefficiente di viscosità raggio della particella e nel caso della centrifuga raggio r0 quindi distanza tra il rotore e la provetta mediamente la provetta va bene 5 minuti di passo ragazzi lascio un po' respirare grazie 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 a tutti 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 Un altro capitolo molto importante per il vostro futuro lavoro, che è quello della diffusione e filtrazione. Quindi, sappiamo che tutti i sistemi biologici, o meglio, gli organismi viventi, esplicano le loro funzioni biologiche regolando l'assorbimento o eliminazione di sostanze attraverso le strutture appunto chiamate membrane. Basta pensare, ad esempio, allo scambio ossigeno-anidride carbonica tra il goblo rosso e i vari tessuti. Questo scambio avviene attraverso delle membrane. Oppure quando appunto il sangue stesso, o meglio l'emoglobina, deve inglobare in sé l'ossigeno, una volta che si trova negli alveoli polmonari. Quindi questo ossigeno passa dall'alveolo all'emoglobina attraverso membrane. Quindi queste membrane, li troviamo dappertutto, e separano appunto dai mezzi con proprietà fisiche e chimiche diverse. E sono molto importanti perché influenzano queste ultime, facendo passare in modo quantitativo e selettivo le sostanze che le attraversano appunto. variando appunto la composizione chimica del mezzo stesso, dove queste sostanze appunto vengono cedute o emmesse. Principalmente ci occuperemo di meccanismi di trasporto passivo, che consentono appunto il trasferimento di molecole da una parte all'altra della membrana, attraverso appunto dei merodi, dei processi chiamati ad esempio filtrazione, osmosi, e in piccola parte agitazione termica. perché vedremo che l'agitazione termica è sia importante, più che altro però è importante la temperatura, più che l'agitazione termica. Questo perché, essendo che il corpo umano ha mediamente temperatura fissa, costante, non ci sono sbalzi di temperatura che creano appunto un processo di trasporto per gradiente di temperatura, ma lo vedremo un po' più avanti. Il solvente biologico per eccellenza è l'acqua. Quindi tutte le proprietà diffusive delle membrane dipendono in gran parte dalle proprietà chimico-fisiche dell'acqua. Quindi magari in futuro non diremo che queste membrane sono costituite d'acqua, ma lo otterremo sottinteso. Quindi l'acqua ne gioca, ne fa da padrone, insomma, in tutto quello che diremo. Anche se, ripeto, non me ne ero più molto spesso questa parola. Va bene. Membrana. Quindi già poco fa ho reso un po' l'idea di cosa potrebbe essere una membrana. Tipo, diciamo, prima il sangue che deve scambiare ossigeno con i vari tessuti. o con il liquido interstiziale. E lo fa attraverso delle membrane. Allora, quello che dobbiamo fin da subito focalizzare è che una membrana divide due scompartimenti. Un compartimento 1 ed un compartimento 2. la membrana è permeabile, quindi vi è un passaggio di sostanze dal compartimento 1 al 2 e viceversa. Quindi, in questi compartimenti c'è una soluzione. La soluzione, sappiamo bene, è composta da una grandissima parte di solvente o una piccola parte del soluto. La concentrazione del soluto viene identificata come la massa del soluto diviso il volume del solvente. Perché del solvente e non del soluto? Perché, ripeto, il solvente è, diciamo, rappresenta il 99,5% del volume. Quindi non interessa prendere il piccolissimo volume del soluto, ma quello del solvente. Perché quando parliamo di concentrazione, concentrazione rispetto al solvente. Quindi queste particelle vanno da sinistra a destra e da destra a sinistra. ora, come unità di misura della concentrazione del soluto abbiamo diverse unità di misura, però quelle che più è utilizzata sono i numeri di moli di soluto diviso i litri di soluzione. Quindi questo C viene poi identificato con la molarità numero moli soluto diviso i litri di soluzione. Ricordiamoci che le soluzioni sono appunto il solvente più il soluto. Ok. Ora, poco fa ho parlato di migrazione, di passaggio, di di particelle dal compartimento 1 e 2 e viceversa. Questo passaggio lo identifichiamo, questo fluire lo identifichiamo con i vari flussi. il flusso di soluto Js e flusso globale Jv. Il flusso è una grandezza fisica. Vedremo che lo identifichiamo come vettore. Quindi la sua freccetta mi indica il verso di propagazione, il verso di spostamento delle sostanze che fluiscono da un compartimento ad un altro. Quando c'è la Js come S pedice ci riferiamo al soluto, quindi al flusso di soluto. Identifichiamo il flusso di soluto come il numero di moli di soluto diviso il tempo per la superficie. Poi vediamo un po' meglio nel dettaglio cosa significa questo. Significa la parolina qui quanti moli di soluto oltrepassano la membrana in una unità di tempo e unità di superficie dalla membrana stessa. Poi abbiamo non dimenticatelo mai il flusso globale JV di saper volume ma il volume è il totale di quello che c'è all'interno quindi è solvente più soluto quindi JV è il volume di soluzione diviso il tempo e la superficie quindi qui dentro abbiamo una una un fluire sia del soluto che del solvente V è il volume totale rappresenta tutto tutta la componentistica fisica di quella sostanza solvente più soluto qui abbiamo diverse concentrazioni di solute nel plasma ad esempio beh non siamo qui però ad approfondire tanto quindi come flusso intendiamo la quantità di sostanza diciamo che passa sì esatto ecco la quantità di sostanza la identifichiamo come numero di moli ecco numero di moli è la quantità di sostanza numero di avogadro chimica l'avete fatta conoscete un po' di chimica giusto quindi il numero di moli per la costante di avogadro mi dà esattamente il numero di molecole o di particelle di sostanze che stanno fluendo da una parte ad un'altra sì quindi è il numero di di particelle una quantità andiamo qua allora equilibrio dinamico innanzitutto rappresentiamo la membrana come una parete spessa delta x con dei fori dove il diametro del foro è due volte il suo raggio quindi con r grande identifichiamo il raggio del foro della membrana abbiamo il compartimento 1 e qui il compartimento 2 avremo che delle sostanze passeranno dal compartimento 1 al compartimento 2 e viceversa quindi avremo un flusso al compartimento 1 e 2 e viceversa quello che qui è rappresentato con queste frecce quindi qui avremo si vede non so se si vede bene js 1 2 quindi flusso del soluto dal compartimento 1 al compartimento 2 e anche il jv 1 2 quindi flusso del volume quindi solvente più soluto sempre da 1 e 2 flusso quindi faccio la freccia per identificare da dove provengono e dove arrivano qui esattamente del contrario quindi dal compartimento 2 passa al compartimento 1 quindi abbiamo una migrazione continua attraverso dei compartimenti e ovviamente si definisce equilibrio dinamico quando il flusso totale del soluto dal compartimento 1 al compartimento 2 è uguale il flusso totale di soluto dal compartimento 2 al compartimento 1 così come il flusso di jv quando jv 1 2 è esattamente uguale a jv 2 1 si ha l'equilibrio dinamico poche parole tante particelle passano da 1 e 2 tante particelle passano da 2 a 1 10 da una parte vanno da una parte e 10 vanno dall'altra parte vi è l'equilibrio dinamico dinamico perché c'è sempre un moto non sono fermi ma i flussi si uguagliano ora possiamo capire subito che una caratteristica di queste membrane è ovviamente la dimensione del foro e il numero di fori per 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 centimetro quadrato per metro quadrato perché più fuori abbiamo più grande sarà j quindi più particelle passano da una parte all'altra più sostanze passano da una parte all'altra più grande sono i fori e meglio queste sostanze fluiscono da una parte all'altra infatti si definisce con coefficiente di partizione alfa l'area aperta al passaggio delle sostanze diviso l'area totale ora l'area aperta al passaggio è uguale al numero dei fori per l'area per l'area dei fori diciamo quanti fori abbiamo 10 ogni foro quanto è largo un centimetro quadrato quindi qual è l'area totale del buco di questa membrana un centimetro quadrato per 10 fori diviso ovviamente l'area totale della membrana questo qui è il coefficiente di partizione e capiamo subito che più grande questo coefficiente di partizione più più è l'area utile al passaggio delle 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 sostanze e semplicemente va a scriversi in questo modo dove n piccolino n piccolino è la densità di fori per metro quadrato perché è na fratto a della densità del foro ok vabbè questo qui è vabbè qui ripetizione questo qui lo dovrei togliere questo qui è sempre una ripetizione l'equilibrio dinamico quando i flussi da 1 a 2 sono esattamente uguali da 2 a 1 è per entrambi il flusso soluto e il flusso del volume totale ok ovviamente essendo che j quindi il flusso è un vettore quindi una grandezza vettoriale io posso definire una quantità positiva e una negativa se questo qui è il mio asse delle x quindi positiva a destra j 1 2 è positivo j 2 1 è negativo perché è opposto al mio asse delle x ecco qua piccola nota matematica mi sentirete dire spesso la parola gradiente il gradiente messo detto così abbastanza semplice mi indica il verso crescente di una grandezza ora se io ho questo faccio il piano cartesiano x y identifico una grandezza che va crescendo in questo modo quindi ho un grafico così quindi da valori piccoli a valori grandi che può essere ad esempio il tempo o meglio il moto rettilineo uniforme quindi qui c'è il tempo e qui c'è lo spazio quindi è una retta il gradiente dello spazio quindi quel vettore che mi indica il verso di aumento dalla grandezza va da sinistra a destra ok quindi mi indica il verso dove quella grandezza va aumentando se qui ho una sbarra metallica qui c'è una temperatura di 10 gradi celsius e qui un'altra temperatura di 90 gradi celsius il gradiente di temperatura va da i valori più piccoli ai valori più grandi quindi questo che io sto identificando è il gradiente gradiente della temperatura grad di t t è la temperatura spero che spero che ho detto qualcosa di utile crescente va bene ok poco fa abbiamo detto abbiamo un centro d'otto un po' i meccanismi di trasporto che analizzeremo che sono quelli passivi che si differenziano da quelli attivi per delle proprietà elettriche quindi quelle passive abbiamo detto che non siamo interessati ai gradienti di temperatura in quanto il corpo umano è isotermo quindi la temperatura del corpo umano è sempre costante quindi non ci sono gradienti di temperatura però quindi ricordiamoci che il gradiente è una differenza ok quindi c'è una gradienza che mi differisce in un punto e in un altro e il grande identifica il verso di dove questa forza aumenta questa forza questa grandezza aumenta quindi parleremo di meccanismi di trasporto per gradiente di concentrazione gradiente di pressione quindi c'è una differenza di pressione idraulica un gradiente di pressione osmotica è un gradiente di potenziale elettrico quindi tutti questi gradienti portano il fluire di sostanze e se ci mettiamo una membrana parleremo di meccanismi di trasporto attraverso la membrana tramite gradiente di concentrazione pressione idraulica osmotica e potenziale elettrico le membrane a parte lasciamo stare la rappresentazione che c'è a destra le membrane biologiche quindi le membrane regolano il passaggio di molecole nelle membrane capillari renali regolano il passaggio di gas nella membrana audiolare l'ho detto poc'anzi e regolano il passaggio di ioni nelle membrane cellulari in questo caso si chiama siamo nella sfera dei potenziali bioelettrici ma vedremo forse che ci arriviamo più avanti questo qui lo lasciamo stare questo è quello che siccome le strade sono tante devo un po' focalizzare ogni tanto è quello che ho detto poc'anzi che vi ho un passaggio di sostanze tra il sangue quindi plasma le cellule del sangue quindi il compartimento 1 con il liquido interstiziale e le cellule contenenti che appartengono appunto nel mezzo liquido interstiziale quindi l'avena la membrana capillare non è altro che una membrana che regola il passaggio lo vediamo dopo di queste sostanze ma prima di parlare del passaggio di sostanze dobbiamo parlare della diffusione la diffusione non è altro che l'agitazione termica delle particelle appunto quando quest'ultime sono in un ambiente con una certa temperatura T che significa questo e se io ho una molecola di aria ad esempio di azoto non è che questa molecola si afferma io non la spingo quindi lei si afferma no siccome ha una certa temperatura temperatura è uguale energia questa particella o molecola non va altro che muoversi si muove per agitazione termica più grande la temperatura più grande sarà questo moto di agitazione termica moto chiamato moto browniano questo che è molto importante se si muove questa particella di massa m ha una certa velocità v abbiamo visto che in meccanica una particella di massa m o un corpo di massa m con velocità v si associa una energia cinetica infatti l'energia cinetica media della particella è data da un mezzo m b al quadrato sempre medio e termicamente termodinamicamente parlando questa energia cinetica è uguale a tre mezzi kt k è una costante e t è la temperatura quindi vediamo che all'aumento di temperatura aumenta l'energia cinetica e quindi la velocità infatti la velocità quadratica media della particella è data da questa formuletta questo qui si fa anche in termodinamica ma anche in chimica quindi più grande la temperatura più grande la velocità e ovviamente più grande la massa della particella più piccola è la velocità della particella stessa anche noi in teoria dovremmo muoverci per agitazione termica però siccome la nostra massa è veramente grande rispetto a queste quantità qui sopra che la b è praticamente nulla per piccola particella questa energia termica ne fa da padrona ora dobbiamo separare poi finisco la velocità media di questo moto a zigzaghi moto casuale con la velocità di diffusione la b di diffusione è semplicemente la velocità che questa particella impiega per andare dal punto a al punto b vabbè a in b ci arriva dopo tutto questo grandissimo tragitto però noi alla fine prendiamo ci domandiamo qual è stata la velocità per andare da a a b quindi questa velocità si chiama velocità di diffusione da a a b quindi perché dopo alla fine se io osservo la particella in a dopo un secondo me la trovo in b è inutile che vada a cercarmi tutto questo tragitto ma mi interessa diciamo a scaglioni di che so di un secondo già abbastanza grande quindi lui va da a a b c'è uno spazio un tempo faccio la divisione e mi trovo la velocità di diffusione infatti la b di diffusione è molto più piccola di quella velocità quadratica media arriva la prima legge di Fic e ci lasciamo ora che dice questa prima legge di Fic è molto semplice io c'ho una bacinella con all'interno delle particelle inizialmente qui la concentrazione nel scompartimento 1 è molto più grande di quella della sezione o scompartimento 2 qui ancora membrane non ce n'è si osserva sperimentalmente che per agitazione appunto termica ma anche per un gradente di concentrazione le particelle passano iniziano a fluire da zone di grande concentrazione delle particelle stesse a zone con bassa concentrazione quindi queste particelle fluiscono da sinistra verso destra fino a che la concentrazione nel liquido è costante è omogenea in linea di massimo quindi il flusso perché questa migrazione è un flusso di particelle il flusso di queste particelle sostanze da sinistra verso destra è dato da un gradiente di concentrazione ecco che qui esce nuovamente la parola gradiente di concentrazione quindi una differenza tra una concentrazione nel punto 1 e una concentrazione nel punto 2 D si chiama coefficiente di diffusione e vedremo che sarà funzione della dimensione delle particelle dalla viscosità del fluido un po' come ho visto prima è dalla temperatura e qui c'è questo segno meno il segno meno è semplicemente siccome il gradiente abbiamo detto che va da quantità più piccola a quantità più grandi quindi che il verso dove quella grandezza fisica aumenta ma vediamo che il flusso va da sinistra a destra quindi se io metto un segno meno vado a girare questo vettore e infatti il flusso va da sinistra a destra quindi prima la legge dei fitti c'è un gradiente di concentrazione sì le particelle passano da zone con grande concentrazione a zone con bassa concentrazione un po' un po' quando si va che so in qualche piazza ad esempio se c'è troppa gente uno vuole andare un po' per i fatti propri e si allontana la seconda legge semplicemente afferma che dopo un certo tempo t non ci sarà più un flusso netto ma come un po' come vi so prima ma le particelle che diffondono dal compartimento 1 al compartimento 2 saranno esattamente uguali a quelle che diffonderanno dal compartimento 2 al compartimento 1 quindi la densità lungo il volume del fluido o della soluzione sarà costante quindi non ci sarà più il delta x anzi sarà 0 in quanto la congenitazione in 1 sarà esattamente uguale a punto 2 questo qui dopo un certo tempo t dalla seconda legge di Fick e introduce il fattore temporale alla diffusione che so qui è un'equazione differenziale di secondo grado ma ci basta sapere questo e qui vi ho anche scritto un po' la definizione quello che dice appunto la seconda legge di Fick ok diffusione libera qui ancora membrane non ce n'è quindi diffusione libera membrane non ce n'è basta sono le 7 5 finiamo qua dalla prossima volta in poi dalla diffusione libera ci mettiamo in mezzo una membrana e vediamo quello che succede tutto questo ragazzi io ho terminato domande se non c'è domande allora ci possiamo anche lasciare passate un buona serata a mercoledì a mercoledì va bene arrivederci arrivederci buona serata sì ciao 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 Grazie a tutti.